Le arcidiocesi di Pesaro, Fane e Urbino si muovono unite verso il Giubileo 2025. Lo faranno in 700 il prossimo 22 febbraio nel pellegrinaggio in treno verso il Vaticano. Un'esperienza profonda quella del Giubileo che l'Arcidiocesi intende celebrare con un confronto aperto a tutti i pesaresi il 19 settembre all'Auditorium Scavolini alla presenza di Monsignor Rino Fisichella, delegato da Papa Francesco all'organizzazione dell'anno giubilare. L'Arcivescovo Sandro Salvucci enfatizza un percorso di fede che porterà a formare i prossimi pellegrini della speranza. Il pellegrinaggio, il mettersi in cammino, il camminare, il mettersi in cammino rappresenta l'esperienza proprio umana più tipica e significativa. Indica quindi una propensione, una prospettiva, un andare verso una meta, un guardare verso il futuro. E poi c'è l'esperienza della porta, la porta santa, che è un segno, anche questo forte, passare una porta che introduce a una novità, introduce quindi a un passaggio della propria vita, da una situazione di fatica, di difficoltà, verso un incontro che dona fiducia, che dona speranza. Il giubileo dunque è un'esperienza certamente di fede, che innanzitutto è proposta ai cristiani, ma è una realtà che contiene un messaggio importante per tutti gli uomini, per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Perché in questo tempo così difficile che viviamo, vivere il giubileo vuol dire annunciare una speranza, rianimare la speranza. Il desiderio del Santo Padre è di proprio caratterizzare l'anno giubilare del 2025 sul tema della speranza, ecco, il bisogno che tutti gli uomini hanno di sperare in un momento così difficile. E quindi le diocesi di Pesaro, Urbino, Fano, le tre diocesi della metropolia, hanno deciso di lanciare l'anno giubilare a partire da questo incontro, a cui abbiamo invitato e siamo molto onorati di avere la presenza di colui che è chiamato a organizzare, a coordinare tutta l'organizzazione del giubileo del 2025, che è il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Monsignore Rino Fisichella. Quindi siamo molto contenti di accogliere tutti quelli che vorranno all'Auditorium Scavolini.